Salve a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Curiosità Viventi, la rubrica dove vi parlo di animali strani, di strani comportamenti, curiosità e usanze in cui gli animali e la natura sono i protagonisti. Andiamo subito al dunque, oggi vi parlo dell'effetto Lazzaro. Si tratta di casi particolari di animali che, considerati estinti, sono ricomparsi. Questo effetto si chiama appunto effetto Lazzaro. Le specie di cui oggi vi parlo le credevamo estinte, ma fortunatamente ci sbagliavamo. Come questo serpente, il serpente notturno di Clarion. Originario del Messico, questo serpente fu osservato per la prima volta nel 1936, ma da allora ha fatto perdere le sue tracce. Tanto che le osservazioni del naturalista che l'aveva descritto furono volate come fantasie. Fino a quanto recentemente è uscito un articolo di cui ne descriveva alcuni esemplari, che sono stati trovati durante una spedizione scientifica. Riabilitando di fatto le osservazioni di 80 anni fa. Il serpente notturno di Clarion vive sulla roccia lavica, nera, vicino al mare ed arriva al massimo 18 cm di lunghezza. È di colore nero marrone ed ha una serie di caratteristiche macchi più scure sulla testa e sul collo, che lo rende praticamente indistinguibile dalle rocce che frequenta. Rimanendo tra i letti, lì stessa storia è successo per il gioco crescato della nuova Caledonia. Il Corelophus ciliatus, descritto per la prima volta nel 1866, fu creduto estinto fino alla sua ricomparsa dopo una tempesta tropicale nel 1944. Altro membro della carica degli animali Lazzaro è questo mammifero, simile a un toporagno scoperto per la prima volta nel 1861. Considerato estinto varie volte nel secolo scorso, la specie è risorta grazie al ritrovamento di alcuni esemplari negli anni 70 e di recente nel 2003. Il sole nodente di Cuba ha una caratteristica piuttosto insolita, se c'è insieme alla saliva anche un veleno che permette l'uccisione delle prede, insetti, ranni o piccoli rettili. Questo che vedete è considerato il più raro insetto al mondo. Ritenuto estinto dal 1930, l'insetto stecco dell'isola di Lord Howe, una piccola isola del Pacifico a 600 km dell'Australia, è stato riscoperto nel 2001 in una trentina di esemplari. Questi insetti sono chiamati anche ragossa di terra o salsicce molli. Di questa specie ve ne parlo più approfonditamente in un post sul blog. Fortunatamente gli animali di cui oggi vi ho parlato sono ricomparsi, ma ciò non accade sempre e molte specie stanno scomparendo dalla terra anche a causa dell'incuria dell'uomo. Forse dovremmo impegnarci un po' tutti per evitare che ci accadi con altre specie viventi. Se il video ti è piaciuto lascia un like ed iscriviti al canale. Inoltre se volete andate a cliccare mi piace sulla pagina Facebook di Entomologando e visitate il blog, di cui trovate tutti i link in descrizione. Vi ricordo gli appuntamenti per seguire Entomologando. Ogni mercoledì sul blog un nuovo post, martedì sì o martedì no, qui sul canale un nuovo video. Un saluto da Ludovico Catanti.